E' un suono molto bello Inverto Che skin sta usando Questa Quella a base No, non è quella a base No, di bio sono E' la 2 di Upsora Update Winners of bottom Davvero, questo è Winners of bottom Chissà quanta esperienza Karma contro In generale Credo che non abbia giocato troppo spesso Contro Sora Anche perchè c'è tipo Ben, Dinamir e basta Credo Ah no, c'è anche Vabbè, mi ricordo di te Non mi ricordo il tuo nick Se mi dispiace Se ci sei iscriviti in chat Quella di Osho Non mi ricordo neanche come si chiama Toscana 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 E gioca anche Snake E Però non mi ricordo come si chiama Vabbè Ok No, non MIG Non MIG Non MIG, non MIG raga Non mi ricordo come si chiama Mi dispiace C'è un Sora player In Toscana In Toscana Che gioca anche Snake Tipo Donino Mi deve ha detto Non chiesto Vabbè Comunque Comunque adesso Non ho visto come è finita la prima prima del stock Scusate Stavo cercando di ricordare il nostro player Vabbè Ci ritroviamo in posizione di vantaggio Per Sora Però adesso deve rigrappare il legend Sbaglia il timing Qui da un Sora Molto sicuro Che riesce comunque a non boccarsi le Ci sta Ci sta Bell dash attack qui per punire il landing Jeb Kill Jeb Strakilla Actually Optima il diario da partigine a mirror Perché se muori prima Torni prima E non puoi riprendere lo stage Geniale Actually lo dovrei fare Anche se molte persone in realtà stanno ferme Ad aspettare lo spunto Cioè In realtà se tu stai fermo C'hai molto molto più tempo di mince vita Ok Per aspettare Chiaramente un Qualcosa E per pensare Vabbè Non è intendente male aspettare In realtà proprio Va Io voglio cliccare i pulsanti prima Vabbè comunque Prova questo Affair Da un smash Safe on Shield Non lo sapevo Prova il down air FFB Che dura 4 secondi Vistagrab Potrebbe arrivare Affair Bello Affair Filt Qua Butt a buy offstage Riesce a tornare No Non riesce Riesce a prendere il 2 frame Con il dash attack Tisora Che è molto un rango Il dash attack in Mario Con il hitbox Fa molto particolare È molto forte Sì sì ma poi Il dash attack Long lasting Gigantissimo Da metà stage Super Ecco lì Ecco qua Bello questo back air Prova quel counter Carina come idea Carina peccato per poco Ghiacciato 74% La kick La kick La kick La kick No quella è la kick Non me la puoi cambiare Possibile Sempre sarà kick Sempre sarà kick Qua beta con le pistole Una recovery più lento Da parte di Sora Sì E giardare Per uccidere Sora Non ha 2 frame Perché baio Non si aggrappa Direttamente con la pb Ma non ha fatto A via Ha fatto double jump Tornano stage Direttamente Diva pk Dave Uno ledge F throw Portano al ledge Prova questo down air Riesce a scudarlo karma Non prova a punirlo Out of shield C'è al gioco di pazienza E qua beta All'andare in a dinamirer Che viene punito Dal down air Vengo colpito sempre Anch'io da st'opzione Che reputo molto schizzo Ma molto funzionale Prova qua Il down air Contro up air Inizia la combo L'sbi Dash pack Kander Che prende e uccide Che non so Quale parte di baio Colpisce Il retro della gamba Cioè Il mantello Ha colpito il mantello Penso che abbia colpito Il mantello Però vabbè Abbiamo scoperto Che il mantello È un artbox È un artbox il mantello Bo 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 L'abbiamo appena scoperto Penso di sì Ma non è il mantello I capelli Ah è vero Sono i capelli Ma non questo Se potete giocare è meglio Se potete giocare è meglio Ma no Ma no Ma la win è tutta streamata Ma questo è il mantello Ma questo è il mantello Ah questo è il win Dopo averlo Quale città Guarda dopo averlo Se ne è andato Quindi Ma Pagli ha fatto Tuo foto e se ne è andato Ah Pagli ha fatto Tuo foto e se ne è andato Si ha battuto Robertino E se ne è andato Sì E se ne è andato Ah Sì Battuto e se ne è andato Poi gli fai vincere Robertino Pazzo in mezzo Vabbè Sì Vabbè 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 Devo capire come fare il messo Esatto Esatto Vabbè Aspetta che mi fa 3 2 1 via E inizia il match Mi sento a casa a dirlo Vabbè Nair Lo porta offstage Inizia molto aggressivo Rispetto a prima Dinamita Qua un bellissimo Fireball Devo dire sta giocando Un advantage molto solido Dinamita Qua è l'ultimo hit di Blitz Haga Lo congela uguale Prova a fare Haga Tantissimi Corsa su Sì 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 Eh vabbè Ma È un po È invincibile Quando parte il zombie Eh lo so Sì Vabbè Bella combo Quasi Gli colpisce Chi c'era Sì Riesce a fare Erdo Di un tempo Prova l'effetto Ma la chi La distrugge No la scondo Ah vabbè Ci sta Non è stato un art punish Cioè Ci sta la E provare Mi è venuto il singhiozzo Non so come Come Trago Cioè vabbè 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 Io non gioco da Tipo 2 euro Anche io Cioè Io da più di te Solo Roma Solo Roma Solo qualcuno che è entrato nel PR Romano Batte il Romano Beh lui è romano Capito È nel PR Romano No è proprio È romano Ah vero Cazzo Cioè bravo Pi romano di così Pi romano di romano Prova la qui Però pazienta Paperino La pazienza Non connette Perché Vai No la jab Qualsiasi altro Pessoa Giove Qualsiasi altro Pessoa Giove Vabbè preso Morto Gittaga 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 Bella Bella Sta giocando Un advantage Super clean Dinamite Sì perché Tanto se ha questa percentuale Bio Stragga molto Ok Vabbè Append special Anche avere un anti-help Killa come la perdisora È molto utile Sembra Sembra Giga Riprova Il classico La classica schizzo move Romana Che mi becco Sempre Adesso faccio Per Ma ti rendi Ricconto che perfino io Provo a parriere quella mossa Cioè non è manco Benzene habit Io l'ho parriata una volta Io una volta ho fatto doppio parry A Bowser Down Air Mi sono sentito così tanto Un grande E cos'è anche Che non ha portato Dieci A Bsmashley Fox Mi senti confini Gioca Gioca baseball Invece no Prova il baseball Prova il baseball Però Però a noi Mi piace Classica tech romana Andaga Secondo me finisci di Ronaldinho Uh è arriva la pena Eh l'arriva la pena E' bello Troppo bene quella roba No invece Gioca baseball Vabbè non mi aspetto Cambi da nessuno Pi Ciupi No bro Cioè non te lo consiglio Schizzo player Secondo me non è pronto Sì Sì tu Lo switcho se la mette a sola Basta Basta Sora ha detto Ma voi state dicendo Che Paperino Non può conbeccare Ma io credo sempre Nel mio Paperino No è il mio No è il mio Cancellato dalla Disney Cosa? Ma possiamo dirlo Vabbè sì No Ho visto qualcosa Non puoi più dire neanche Il nome della Disney No Cioè adesso L'ho notato anch'io Ma sto remix Posso dire A meno più sono le musiche di Tekken Su Smash No no Sono di volume troppo alto Sono registrate a volume troppo alto Le sento a volume troppo alto Rispetto alle altre Prova qua Una crazy combo Ma non riesce Viene punito E' reversato Lo so Però Tanto può finire Un game molto più Nel nel Per 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 Vabbè ma tanto finché non muore Puoi fare la di ai Che ti fai Dopo questa Figo gioca un nego Penso che l'angolo sia peggio Per recuperare Così No No? No ok No ok Vabbè C'è stato Io non ho 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 Però poi è andata a Polonia Le viglie ero maghe Dove avrà Io adesso che ho finito l'iscrizione Oggi le viglie ero maghe Adesso che ho finito l'iscrizione Di pagare l'hotel Sono nella No Pinaldo io Sai cosa No? No C'è la possibilità che mi licenzi Ma al fine No Poi io prima che stessi Questa cosa Io ti ho notato Due traduanti Da 600 euro C'è In realtà Porca Ovviamente Non mi chiede E lui non lo sta Chissando Bell Dash attack Killa Non ho mai visto Dash attack Di solo a killare Credo Io La legge ovviamente Però killare è così Killare è così Mai Riesce a punire lo sport dodge Quell'uptit Non si attiva Un beat in Stranamente Bella grab No Bella presci Prova anche lui Counter sul proiettile Ma non riesce Troppo lontano Wow Wow Reversal Incredibile Però non porta molto Questo è un grande Riprova la schizzo play E viene Hard punito Stavolta La schizzo play La schizzo play 2.0 Questo tipo Dietro Qua rispissi Un'è Una pressura abbastanza Save da parte Di Paperino Ma sento Rai la sua faena E vai Questa Questa Rai la Sai perché? Te lo sento Spesso Riesce a colpire il down smash Mi sa che disora Perché salta Actually Assurdo Bella SDI da parte di Namir Torni a fireaga Prova con fireaga Colpire Se la sto giocando Molto paziente Molto grounded Aspettando Il momento Per strecare Riesce a pulire La più piccola Pupiato Shield Mega laser No non è vero Non fa questo Aper per punire Potrebbe aspettare Nier Lo porta Verso il legend SDI assurda Dima Ci mette proprio L'anima Dentro questo SDI Ok prova Dash attack Si evita Questo Tandaga Però si mette Comunque In una brutta posizione Nier Blocca Questo down air Ok Provata con Tandaga Prova il Tandaga Offstage Non clip Blitzaga Lo lancia Probabilmente vuole tornare A fireaga Fireaga Doppio sparo Perché è una prova A punirlo Aspettandosi il terzo Ma non arriva Prova questo Dogeguard Pazzesco Pazzo Maniaco Schizzo player Eccolo dov'è Il mappio Prova Lo smash attack Però non riesce Tandaga per coprirsi il legend Con questa hitbox assurda Riesce a bloccare Baionetta Dalle strap No la schizzo Ok grab Non porta la kill No non credo Non è vecchio Morto Ok Ok Questa è kill Questa è kill E vabbè Comunque Fattibilissimo Per coprire La kdmg Ma era molto veloce Potrebbe adesso Eccolo Eccolo Grandi lead Ok 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 Poteva anche Rivela smash da lì Non credo Non credo su baionetta Penso avrebbe fatto Bawke Mai visto Nuove tech Oddio Riesce attack Riesce a fare di A in tempo 3 a 0 Per dinaminer E' bellississima Questo reshattac Fra Ronaldinho Sozzer Vabbè Vado al vlog A me Ci accettiamo Tardi Ben sì Giordi Vabbè E adesso Ci abbiamo Ciao 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 Ciao